Puntuali alle 8.40, ritorniamo in onda qui su Playset, all'ascolto, alla visione di RBA e riprendiamo con il filo delle notizie. Ci occuperemo molto oggi di quello che sta succedendo in Medio Oriente, in particolare per quanto riguarda la Palestina, ancora più in particolare in Gaza, anche se in realtà partiamo da un discorso appunto leggermente più grande, parliamo di nazionalità palestinese più nel suo complesso. A partire da un documento che è stato presentato nel pomeriggio di ieri, che ora è facilmente leggibile raggiungendo il sito di ActionAid, perché si tratta di un documento stilato ad ActionAid, e da Oxfam per fare un po' il punto su un elemento importante di quello che ha a che fare con la Palestina e i suoi ultimi decenni di storia. Si parla in particolare di quello che in inglese viene definito il displacement, lo spostamento forzato, e il rapporto si chiama compelled to flee, in sostanza obbligati a fuggire, potremmo tradurlo all'incirca così, in italiano. Ne parliamo appunto in italiano, così già insomma sono temi piuttosto complicati, senza dover passare anche da una traduzione. Siamo molto contenti di raggiungere nuovamente Marco De Ponte, segretario generale di ActionAid Italia. Intanto buongiorno e grazie di essere qui con noi. Buongiorno a tutti, un piacere mio. Allora faccio una domanda un po' forse da, non lo so, avvocato del diavolo, giusto per far avviare la discussione, nel senso che con tutto quello che sta succedendo nella striscia di Gaza, la violenza estrema, le accuse di genocidio, il massacro che sta andando avanti ormai da molto tempo, sembra quasi secondario il tema dello spostamento forzato, potrebbe sembrare quasi secondario. Allora partiamo da questa riflessione sul perché invece soffermarsi proprio su questo argomento. Beh, intanto partirei dall'accusa più grave che ancora accusa perché la Corte Internazionale di Giustizia ha indicato che è plausibile o non c'è ancora un giudizio ma è plausibile un genocidio per rispondere anche a questa domanda. Per provare il crimine di genocidio, che è il crimine dei crimini, un elemento importante non sono solamente i fatti ma è anche la possibilità di dimostrare l'intento di arrivare a compiere un genocidio. A questa prova, diciamo, si arriva seguendo le dichiarazioni della leadership politica, si arriva anche sapendo leggere quello che sta succedendo nel contesto, quindi non il singolo evento. E qui arrivo alla risposta specifica. Quello che noi con questo documento abbiamo cercato di fare è solo parzialmente, diciamo, promuovere e evidenziare informazioni nuove perché quello che, come dire, nella striscia di gazzola succede se non si ascoltano solo i nostri telegiornali, ma magari si va su Al Jazeera, si riesce anche a seguire con una certa costanza. Ho detto l'esempio del Cadus Belli perché, come sapete, c'è anche l'intenzione di oscurare certi canali in vitraere. Però, se si mettono le cose nel contesto, si vede che la storia degli spostamenti forzati è una storia che affligge l'intero popolo palestinese, lo affligge a Gaza come nella West Bank e lo affligge gira e rigira da un secolo, fin dal mandato britannico. Esistono sei milioni di palestinesi che vivono fuori da quella che era la Palestina storica. esistono dati importanti su, diciamo, quelli che sono gli abitanti di Gaza, erano, sono ancora perché sono lì dentro, gli abitanti della striscia di Gaza, 2 milioni e 3 di persone, che a loro volta però sono fuggite da altre parti della Palestina storica in numeri enormi, e cioè oltre un milione di queste persone non abitavano lì in precedenza, con i loro genitori, i loro nonni. E poi si arriva ai dati attuali. Quindi, i dati attuali parlano, quando dico attuali parlo dei giorni nostri, ma non parlo neanche del scoppio dell'ultimo conflitto, degli ultimi sei mesi. Quindi, per esempio, se noi guardiamo dal 2009 al 2023, vi riprendo un attimo, 13.500 persone fatte muovere dalle proprie case nella striscia, scusi, nella West Bank, nel Cisgiordania. Oltre poi, venendo ai giorni nostri, al fatto che comunque, diciamo, nella Palestina occupata fuori da Gaza, oltre a Gaza, come ben sappiamo, ci sono azioni che continuamente tendono ad espellere questa popolazione dalle proprie case. I 750.000 israeliani che sono negli insediamenti hanno prodotto questa situazione che sono illegali, lo ricordo, sotto diritto internazionale, hanno prodotto questa situazione che viene spesso comparata a quella che c'era in Sudafrica, dove c'erano i cosiddetti Bantustan, dei microcosmi, diciamo, isolati anche geograficamente, perché la Palestina occupata è un puzzle. Sappiamo che ci sono aree A, B e C, a seconda del livello di controllo dell'occupante, ed è un paese dai confini invisibili, dicono spesso i miei colleghi, perché ci sono checkpoints dappertutto, non sai mai se sei in area A, in area B, in area C. Quindi, insomma, possiamo andare avanti e raccontare anche dettagli, però il lavoro che noi abbiamo cercato di fare è di contestualizzare, diciamo, lo stato in cui si trova un popolo intero che è costretto da decenni, da anni e poi negli ultimi sei mesi a muoversi continuamente fuori dalle proprie case cercando riparo, si chiamano nel diritto internazionale non rifugiati, ma internally displaced people, cioè le persone che vengono sfollate all'interno dei confini di uno Stato, che però hanno sostanzialmente gli stessi, dovrebbero avere gli stessi diritti dei rifugiati. E un'altra cosa che cerchiamo di chiarire è il fatto che sicuramente nel diritto internazionale i trasferimenti forzati non sono accettabili, cioè non si può neanche apertamente dichiarare una guerra contro un nemico, diciamo Israele contro Hamas, se la vogliamo dire così, e contemplare nelle ipotesi di fare quello che spesso in termini gergali viene chiamata una pulizia etnica. Non si può. È previsto dal diritto internazionale che ogni persona e ogni famiglia abbia diritto dopo un certo periodo per qualsiasi causa a tornare a casa. Ma questi sono i trasferimenti. Mi ha colpito molto ieri durante la conferenza stampa l'intervento di Francesca Albanese, che era ospite, diciamo, di questa conferenza stampa. Lei era relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati e parlava di come questa guerra stia portando avanti atrocità incredibili ma stia anche portando un po' a forzare le linee della legge internazionale perché Israele sta cercando per molti versi di riscrivere queste leggi tutto sommato con il beneplacito di parte influenti del mondo. Quindi questo è interessante. Purtroppo non riusciamo ad andare più nel dettaglio ancora rispetto a questo documento ma l'ho trovata appunto compelled to flee sul sito di Action Aid. Potete dargli un'occhiata. Non è lunghissimo perché è un pregio, insomma, riassume molto brevemente e in maniera molto ficcante quello di cui stiamo parlando. Volevo dedicare un pochino di spazio ad Action Aid e rispetto al vostro lavoro in Palestina nelle aree di cui stiamo parlando perché ho letto molto spesso i vostri comunicati stampa nel corso di questi mesi molto utili anche se spesso strazianti i racconti che ci riportate. Ci puoi fare un po' un quadro di che cosa state facendo o quantomeno quello che state cercando di fare perché mi dicevi Furionda che purtroppo le possibilità sono poche? Sì, lo faccio collegandomi al discorso che comunque stavo cercando di fare cioè una cosa sono i trasferimenti e una cosa sono le evacuazioni quindi quello che è successo a Gaza negli ultimi mesi è che la gran parte della popolazione locale ha ricevuto ordini di evacuazione. Ora, le evacuazioni sono legittime ma devono essere temporanee. una potenza occupante può dire anzi dovrebbe dire abbiamo visto che forse lo dice troppo poco guarda che sei vicino ad un obiettivo militare spostati poi semmai rientri. beh, come sappiamo questa diciamo modalità di lavoro è stata diciamo utilizzata in maniera piuttosto sportiva e ci saranno altri che devono come dire verificare come questo significa che la popolazione di Gaza è stata mossa prima dal nord spinta nella gran parte verso sud ma senza neanche grandissima chiarezza su per quanto tempo con quali accessi quali strade eccetera noi di Action Aid in Gaza abbiamo dello staff purtroppo questo staff si è trovato spesso nella situazione di come tutti gli altri nel senso che è stato impossibile accedere abbiamo letto di 280 giornalisti di personale dell'Unrua e non solo di altri delle Nazioni Unite delle NG che sono stati colpiti quindi il messaggio fondamentale è che non sta neanche funzionando il sistema standard chiamiamolo così umanitario per cui l'azione delle organizzazioni non governative viene guidata per cluster tematici e via di seguito certo c'è un grandissimo lavoro di preparazione perché questa cosa a un certo punto deve finire nei fatti anche se non magari non finisce a parole con dichiarazioni di tregua eccetera e quindi gli aiuti le distribuzioni che sono cose che abbiamo fatto anche noi di kit di prima necessità vengono gestite in maniera coordinata ma devono essere gestite in maniera molto più ampia dopodiché ActionAid non è un'organizzazione che si dedica diciamo alla distribuzione di cibo abbiamo fatto distribuzioni di cash perché abbiamo visto che come dire ci sono aumentati tantissimo i prezzi dei generi di prima necessità ma quando comincerà a funzionare di nuovo un sistema diciamo un minimo prevedibile anche noi pro quota perché poi i grandi stock di cibo e di altri materiali verranno organizzati diciamo nel quadro delle Nazioni Unite anche noi con i nostri beneficiari che siamo in grado di raggiungere fino all'ultima persona in maniera non su scala enorme ma molto più precisa riprenderemo o ricominceremo a fare anche un lavoro più strettamente umanitario intanto però sono cosciente del tempo che passa intanto però è fondamentale come dire continuare e lo fa l'abbiamo fatto con Oxfam l'hai citato ma l'abbiamo fatto anche con Mazen che è una reputabile organizzazione con sede a Gaza quali sono i parametri del diritto internazionale perché non è che Israele sta cercando di riscrivere le regole si sta muovendo diciamo ignorando molte delle regole quindi è importante sarà importante nel lungo periodo fare giustizia anche se può essere solo riparativa e poi ci sarà tutta una fase di ricostruzione ora ufficiali israeliani informalmente o anche esplicitamente hanno parlato della loro ambizione a far a favorire l'immigrazione l'emigrazione diciamo i palestinesi hanno bisogno di essere aiutati per evitare che ci sia uno scivolamento ulteriore verso questa possibilità perché alla fine questo insieme ad altri elementi è quello che andrebbe poi a configurare il crimine di genocidio da cui siamo partiti cioè cercare di spostare un'intera popolazione fuori dalla sua patria useremo questa parola per dirla semplice quindi tutto questo lavoro di advocacy che noi facciamo con le organizzazioni palestinesi si affianca al lavoro che si può fare sul terreno ultima cosa in vari paesi stiamo cercando di spingere l'abbiamo fatto in Danimarca anche per esempio facendo caldo allo Stato per evitare che vengano continuamente che continuino alcuni paesi a fornire armi che come dire peggiorano la situazione di questo conflitto quindi anche un'azione internazionale sul lato pratico in altri paesi si e tra l'altro l'Italia è fra i paesi che sta rifornendo di armi Israele storicamente gliene ha fornite moltissime quindi siamo assolutamente coinvolti non volevo mettere in secondo piano anche l'aspetto comunicativo della questione visto che sappiamo che la stampa non può entrare nella striscia di Gaza i racconti che arrivano da organizzazioni come Action Aid sono davvero un racconto unico di quello che sta succedendo all'interno della striscia quindi di questo anche vi ringrazio ringrazio in particolare allora per questa chiacchierata il segretario generale di Action Aid d'Italia Marco De Ponte grazie mille davvero per l'intervista e per il lavoro che fate e insomma alla prossima buon lavoro a voi grazie mille